Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. In preparazione all'uscita dell'ultimo film del MonsterVerse, ossia Godzilla X-Kong The New Empire, o Il Nuovo Impero in italiano, ho deciso anche su vostra richiesta e su vostro suggerimento di fare un po' un video recap di tutto quello che è successo nel MonsterVerse fino ad adesso, almeno per quanto riguarda il lato cinematografico e quello delle serie televisive. Il video quindi è un po' un ripassone di tutti gli eventi più importanti, proprio per prepararsi alla nuova scazzottata di Godzilla X-Kong The New Empire. Prima di iniziare, come di consueto, vi invito a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Come ben sappiamo, il MonsterVerse inizia con il primo film di Godzilla, Godzilla 2014, Il Godzilla di Garrett Edwards. In Godzilla 2014 scopriamo, per la prima volta, che sul nostro pianeta vivono delle creature antichissime, figlie di un ecosistema vecchio di milioni di anni. In Godzilla 2014 la principale minaccia all'umanità è il risveglio di due esemplari della specie dei muto, delle grandi creature che si nutrono di radiazioni e che possono anche emettere potenti impulsi elettromagnetici, capaci di disattivare le nostre raffinate ed evolute tecnologie. Mentre l'umanità appunto è costretta ad affrontare queste minacce, si scopre anche la verità su un'organizzazione segreta, che per decenni ha monitorato e studiato queste creature, i cosiddetti titani. Si tratta ovviamente della Monarch. Il risveglio dei muto porta con sé un'importante conseguenza, ossia che anche il predatore alfa di questo antico ecosistema, ossia Godzilla, decide di scendere in campo. Il primo incontro tra i vari mostri si svolge all'Hawai, salvo poi passare alla grande battaglia di San Francisco. Mentre l'esercito americano prova a risolvere la situazione utilizzando la più classica delle soluzioni, ossia un'arma nucleare, Godzilla decide di sistemare le cose a modo suo, eliminando i due esemplari di muto e mostrandosi al mondo come una forza sì di distruzione, è pur sempre un mostro alto decine e decine di metri, ma anche come una forza di equilibrio, una forza di protezione, in un certo senso. Insomma, lasciamoli combattere. È chiaro che la battaglia di San Francisco e l'emersione di queste creature davanti agli occhi del mondo cambia per sempre la storia dell'umanità. Il secondo film del Monsterverse ci porta invece nel passato, negli anni 70, è ovviamente Kong Skull Island. Kong Skull Island ha il compito di introdurre appunto l'altro grande campione del Monsterverse nel Monsterverse stesso, ossia appunto Kong. Il film è incentrato su una spedizione sull'isola del Teschio, la famosa Skull Island, a cui prende parte anche Will Randa, uno dei personaggi più importanti nella storia della Monarch. Avanzando sull'isola del Teschio, i protagonisti si trovano di fronte a creature inimmaginabili, ovviamente c'è Kong, ci sono anche le sue nemesi, ossia gli strisciateschi, piovre giganti, ragni alti metri su metri, insetti stecco, insomma c'è di tutto, una vera e propria megafauna colossale autoctona dell'isola del Teschio. Sull'isola del Teschio si trova anche una tribù di uomini che hanno imparato a vivere in simbiosi soprattutto con la specie di Kong. Si tratta degli Iwi. Come in tutti i film del MonsterVerse, anche in Kong Skull Island non mancano di certo le scazzottate, sia tra Kong e alcuni militari americani che intendevano uccidere Kong perché aveva abbattuto vari elicotteri, e sia tra Kong e le sue nemesi, appunto gli strisciateschi. Uno degli aspetti più interessanti di Kong Skull Island è la sequenza finale, dove i protagonisti del film vengono informati circa l'esistenza di altri mostri, e tra questi troviamo Rodan, Ghidorah, Motra e soprattutto Godzilla. In questo modo Kong Skull Island prepara il terreno per il terzo film del MonsterVerse, ossia Godzilla King of the Monsters. Chi segue il mio canale da tempo sa benissimo che Godzilla King of the Monsters è il mio film preferito, nel MonsterVerse almeno fino ad oggi, ed è un film molto importante a livello di lore stessa del MonsterVerse, perché è il primo film appunto della Legendary dove compaiono alcuni titani provenienti dai classici film della Toho. Godzilla era già apparso, ma qua abbiamo appunto Re Ghidorah, una delle nemesi più importanti di Godzilla, Motra, che qui assume una connotazione molto importante per Godzilla, in quanto le loro due specie sono in una specie di rapporto simbiotico, e poi abbiamo Rodan, l'uccello signore del fuoco. Godzilla King of the Monsters si basa su tre filoni narrativi principali, vi è quello ovviamente dei mostri, vi è quello della tecnologia sviluppata dalla Monarch denominata Orca, un dispositivo che permette di comunicare, quindi anche di influenzare il comportamento dei titani, e poi vi è il tema dell'ecoterrorismo, incarnato dal personaggio di Jonah, il villain del film, il quale intendeva risvegliare e scatenare Ghidorah per in qualche modo purgare il mondo dalla presenza umana, favorendo così un ritorno a un ecosistema più naturale, e appunto privo degli effetti nefasti della nostra specie. Nel momento in cui Ghidorah si risveglia, egli richiama al suo servizio tutti i titani del pianeta, i quali cominciano a seminare morte e distruzione appunto in tutto il mondo. Spetterà ancora una volta a Godzilla riportare ordine, sia eliminando il falso re, ossia appunto Ghidorah, sia riacquisendo la leadership di re dei mostri. Con la sconfitta di Ghidorah, Godzilla pare ancora una volta come il salvatore, non tutti si sentono al sicuro, e soprattutto non tutti si fidano di Godzilla. In realtà ci sono anche persone che riconoscono l'importanza dei titani, anche perché essi hanno un impatto positivo a livello ambientale. C'è chi fa rispuntare foreste, c'è chi combatte lo scioglimento dei poli, quindi ancora una volta ci viene fatto capire che i titani sono una parte integrante dell'ecosistema del pianeta. Alla fine di Godzilla King of the Monsters viene teaserata la nuova grande battaglia, ossia lo scontro tra Godzilla e Kong. Arriviamo così a Godzilla vs Kong, dove i due campioni, ossia Godzilla e Kong, devono inevitabilmente scontrarsi. Ci viene fatto capire che le loro due specie hanno combattuto una guerra dura e spietata in passato, e ci viene anche fatto capire che i due non si tollerano esattamente. All'inizio di Godzilla vs Kong, Kong si trova ancora su Skull Island, dove tra l'altro era stata anche costruita una struttura di contenimento. Ad ogni modo la battaglia con Godzilla è inevitabile e in tutto questo, giusto per complicare un po' le cose, ci si mette ancora una volta l'umanità. In questo caso la responsabile del caos è la compagnia tecnologica e scientifica nota come Apex, la quale ben pensa di creare un titano meccanico per combattere i titani organici. Mi riferisco ovviamente a Mechagodzilla. Mechagodzilla porta con sé anche un grosso segreto, ossia che nel processo di costruzione di questo bestione meccanico si è impiegato un teschio di Ghidorah, recuperato appunto dopo la caduta del falso re nel film precedente. Questo tra l'altro triggera una reazione violenta in Godzilla, il quale infatti sembra cominciare ad attaccare a caso le sedi dell'Apex, ma in realtà aveva il suo perché. Come era ampiamente prevedibile, i due campioni si affrontano, Godzilla palesemente dimostra la sua superiorità contro Kong, che infatti va un passo dalla morte, però a un certo punto poi devono necessariamente allearsi. Contro chi? Contro il nemico comune che è ovviamente Mechagodzilla. L'azione combinata di Godzilla e Kong riesce ad avere la meglio su Mechagodzilla, che viene quindi rottamato e mandato in discarica. Godzilla vs Kong si conclude con una sorta di tregua tra i due, è un reciproco riconoscimento delle sfere di influenza. Infatti in Godzilla vs Kong abbiamo visto anche per la prima volta nel dettaglio la Terra Cava, quindi questo grande ecosistema che si trova all'interno del nostro pianeta, che non è altri che la culla dei titani. Ci viene fatto capire che la specie di Kong è appunto originare della Terra Cava, ma in realtà anche la specie di Godzilla, e Kong appunto assume un po' il ruolo di leader, di re della Terra Cava, mentre Godzilla pattuglia gli oceani e la superficie del nostro pianeta. Arriviamo così alla serie Monarch Legacy of the Monsters, la prima serie TV del Monsterverse pubblicata su Apple TV. Monarch Legacy of the Monsters si dipana su due direttrici temporali, una ambientata nel passato, che approfondisce le prime ricerche della Monarch riguardo Godzilla, e non solo, e un'ambientata poco dopo gli eventi di San Francisco, quindi dopo gli eventi di Godzilla 2014. Non sto qui a spiegarvi nel dettaglio gli intrighi familiari presenti in Monarch Legacy of the Monsters, merita però una menzione sicuramente l'introduzione del concetto di Axis Mundi, una sorta di mondo tra i mondi, che separa la superficie terrestre e il nostro mondo dalla Terra Cava, un luogo dove potenti forze gravitazionali alterano anche lo scorrere del tempo, ed è anche un luogo dove i titani passano appunto per andare avanti e indietro dalla Terra Cava alla nostra superficie. In Monarch Legacy of the Monsters abbiamo anche scoperto qualcosa in più sull'attività ovviamente della Monarch in passato, ci mancherebbe, e delle loro ricerche condotte su Godzilla e sugli altri titani. A livello di lore non sposta tantissimo come i film, ed è anche difficile immaginare che ci siano collegamenti con Godzilla X-Kong The New Empire. Siamo proprio arrivati a Godzilla X-Kong The New Empire, l'ultimo film del Monsterverse di cui ovviamente non conosciamo ancora la trama. Sappiamo solo che sarà un film ad alto contenuto adrenalinico, che il villain sarà Skar King e che sarà affiancato da un potente antico titano, noto come Shimo, signore dell'elemento del ghiaccio, e che Godzilla e Kong dovranno ancora una volta fare squadra insieme per debellare la minaccia. Inoltre, entrambi i campioni andranno incontro a un processo di potenziamento. Da una parte avremo Godzilla Magenta e dall'altra avremo Kong con il suo Beast Glove. Ma appunto su quella che sarà la trama e sugli eventi che accadranno in Godzilla X-Kong The New Empire, beh, ne parleremo meglio dopo l'uscita e soprattutto dopo la visione del film. Bene signori, questo recap del Monsterverse giunge alla sua conclusione. Ovviamente ho dovuto sintetizzare molto, se no il video durava tantissimo, però se volete approfondire vari aspetti del Monsterverse, magari aspetti più specifici riguardo a personaggi, tematiche, mostri eccetera, la mia playlist abbonda veramente di materiale. Quindi cercate le informazioni che vi servono e quasi sicuramente le troverete. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e perché no attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo tra la sua funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa, Paypal e TP, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!